Nonostante le difficoltà economiche che gli enti stanno vivendo a causa del caro bollette, il comune di Silvia ha predisposto un ricco programma di eventi natalizi dal titolo Silvi in Christmas Time, giunto alla seconda edizione. È stato predisposto un calendario importante, abbiamo lavorato per un risparmio energetico con meno luminarie perché la crisi energetica incombe un po' in tutti gli enti, però abbiamo rivolto l'attenzione agli eventi culturali. A partire da oggi, 8 dicembre, in Piazza Marconi fino alle 20 si svolgerà una mostra a mercato artigianale dove artisti e artigiani potranno esporre e vendere le loro realizzazioni. Ci saranno diverse attività partendo dall'8, l'11, il 18 dicembre con eventi in piazza, il mercatino dell'artigianato di Natale, poi soprattutto eventi per i bambini, il mago Dario, il maestro Venicio, musica in piazza e poi soprattutto anche i canti gospel nel scenario di Silvia Alta. Sì, eventi culturali soprattutto rivolto ai bambini, ci sarà anche Babbo Natale con l'associazione dei disabili dove naturalmente in piazza faremo divertire i tanti ragazzi, un evento un po' per tutti, dalla musica agli spettacoli culturali. Siamo soddisfatti di questo calendario, un ringraziamento va all'assessore di Cenzo e alla consigliera Maria Cichella ma a tutta l'amministrazione. Un plauso va fatto anche alle associazioni che sono vicine all'amministrazione? Sicuramente sì perché con il contributo di tutti possiamo puntare su un Natale all'insegna della cultura, dei giochi, delle attività ludiche e soprattutto far divertire i più piccoli nelle tante piazze cittadine.